Una luce nella notte. Betty amava la notte perché portava con sé le storie più magiche, come quella di Cosmo, l'orso che aveva paura del buio. Betty stava giusto pensando a quanto avrebbe voluto dire a Cosmo che non c'era bisogno di temere l'oscurità. Quando? Ecco che apparve. Cosmo, esclamò Betty, sono così felice che tu sei qui. Volevo dirti che non devi avere paura del buio. Sai, disse Betty, l'oscurità ci permette di usare una lampada per creare delle ombre meravigliose. E l'oscurità ci permette anche di vedere la luna. Sì! E questo? Oh, che cos'è questa strana luce? Penso che voglia mostrarci qualcosa, disse Betty e seguì la luce danzante tenendo stretta la zampa di Cosmo. La luce zigzagava qua e là, guidandoli nel bosco più profondo e oscuro, finché giunsero ad una caverna. Beh, io di sicuro non ci entro, si impuntò a Cosmo. Ma non preoccuparti, disse Betty, ci sarò io al tuo fianco con la tua zampa nella mia mano. Possiamo farcela insieme. La luce li guidò all'interno della caverna fino a un lago color di inchiostro dove una barca li stava aspettando. Poi si addentrarono nella caverna, però più diventava buio e più Cosmo aveva paura. No, torniamo indietro! Betty però sapeva di essere coraggiosa. Spense la torcia e fece un respiro profondo. Intorno a loro apparve un magico mondo fatto di luci scintillanti. Sembrava il posto più sicuro del mondo. Il posto più sicuro dove stare. Che meraviglia! Quando infine uscirono dalla caverna, Cosmo si accorse che Betty era preoccupata. Betty chiese. Cosa c'è che non va? E non so come tornare a casa, disse Betty. Non preoccuparti, rispose Cosmo. Sono qui vicino a te con la tua mano nella mia zampa. Possiamo farcela insieme. Insieme tornarono indietro saltellando nel bosco mentre cantavano allegramente. I nostri cuori illuminano la notte oscura. A noi buio non fa paura. E arrivati a casa di Betty, si accorsero che le loro ombre si stagliavano alte e orgogliose. Sembra che siamo entrambi più coraggiosi di quello che pensavamo, esclamò Betty. E davanti a una cioccolata calda parlarono di come avevano conquistato la notte. E dentro di loro sentirono una luce così forte che erano sicuri avrebbe illuminato l'oscurità più profonda. Quando arrivò il momento di salutarsi, Betty diede a Cosmo la sua lanterna e disse, tieni così ti ricorderai sempre della luce del tuo cuore. E con un abbraccio l'orso sparì. La mattina dopo Betty si chiede se fosse stato solo un sogno. Quando aprì il suo libro però capì che non era così.